Enzo Fernandez al Manchester United per 120 milioni di euro, questa notizia è incredibile e ha spiazzato tutti, me compreso, perché negli ultimi giorni si parlava di Enzo Fernandez a Liverpool, si parlava di Enzo Fernandez a Real Madrid, ma nessuno accostava questo talento argentino al Manchester United per tanti motivi, perché lo United in quella posizione del campo ha tantissimi profili, ha tantissimi calciatori, perché in questo momento storico la società è in vendita e soprattutto lo United non ha tutti questi soldi da spendere, lo stiamo vedendo proprio con la trattativa per Gakpo, abbiamo delle difficoltà a chiudere con il PSV Edoven che chiede più di 60 milioni e noi non riusciamo ad arrivare alle cifre che chiede la squadra olandese, Ma in queste ore è uscita questa notizia che è clamorosa, clamorosa, perché lo United è disposto a pagare la clausola per Enzo Fernandez che si aggira sui 120 milioni di euro Vi riporto proprio la notizia, il Manchester United ha superato il Liverpool per la corsa ad Enzo Fernandez, ci sono già conversazioni in corso tra i soggetti coinvolti, il Manchester United è persino disposto a pagare la clausola di 120 milioni per evitare qualsiasi concorrenza, ed è incredibile, è veramente qualcosa di incredibile, Molto probabilmente questa è una trattativa che se si realizza, si realizzerà in estate, non in inverno, Il Manchester United non può spendere questi soldi e soprattutto non è Enzo Fernandez il giocatore che ci serve in questo momento, sappiamo che lo United ha un problema, che è in attacco, manca un attaccante, manca un numero 9, ne abbiamo parlato pochissimi giorni fa, Quindi non credo che questa trattativa si possa concludere nel mercato invernale, ma sappiamo anche che il Manchester United nel mercato invernale è abituato a fare questi colpi, Infatti alcuni tifosi su Twitter hanno iniziato a creare le loro supposizioni, la prima supposizione, quella più credibile, la stanno raccontando in tanti, infatti si dice che il Manchester United abbia già trovato l'acquirente, Cioè lo United è già stato venduto, si sta trovando solo il giorno giusto per ufficializzare la cosa e quindi in questo momento non è la famiglia Glaser a trattare con i calciatori, Ma è la nuovissima società che sta già investendo dei soldi per fare il mercato, è una supposizione ovviamente ragazzi, non si sa se la realtà è questa oppure no, Però parliamoci in maniera molto chiara, è la supposizione più credibile, perché in questo momento come ho detto in precedenza non c'è la disponibilità economica per spendere tutti questi soldi, Ma le testate giornalistiche che stanno parlando di questa trattativa sono le stesse che mesi fa accostavano lo United ad Anthony, Sono le stesse che hanno accostato il Manchester United a Lisandro Martinez, Sono anche le stesse che hanno accostato il Manchester United a De Jong e che in questo momento stanno riavvicinando le due parti, È una situazione veramente, non dico problematica, perché se ciò si dovesse realizzare io sarei molto molto contento, Però allo stesso tempo non posso credere ad un Manchester United che in questo mercato invernale mi porta Gakpo per 60 milioni, Mi prende Enzo Fernandez per 120 milioni, mi riapre la trattativa per De Jong, La vedo un po' improbabile come situazione, soprattutto perché la priorità rimane l'olandese, La priorità rimane l'attaccante del PSV, non so veramente cosa dirvi, Perché nell'ultimo periodo stanno succedendo veramente tantissime cose strane che ci fanno credere in un cambio di proprietà nell'immediato, Perché ragazzi anche il rinnovo che è stato fatto a Rashford, il rinnovo che è stato fatto a Dalot, a Luxio, a Fred, Non so se sapete cosa è successo, in pratica sono stati tutti rinnovati in maniera automatica, Cioè in questo momento questi quattro calciatori hanno il contratto che gli scade l'anno prossimo, Perché sono stati attivati questi rinnovi automatici, Come se la famiglia Glaser abbia detto, Ora noi qui non comandiamo più, Non ci sediamo a tavolino a parlare con i calciatori, Perché tanto tra un paio di mesi abbandoniamo questa barca, Quindi attiviamo il rinnovo automatico e ci penserà la prossima società ad avviare la vera e propria trattativa per un rinnovo in maniera permanente, Lo sponsor che abbiamo sulle magliette quest'anno ha deciso di strappare ogni tipo di accordo con il Manchester United, Quindi noi dall'anno prossimo non abbiamo uno sponsor, E non si sta parlando di un altro accordo, E la cosa è molto strana, Soprattutto perché questa notizia dell'addio allo sponsor è uscita insieme alla trattativa tra il Manchester United e la Apple, Manchester United e Zara se non erro, Manchester United e Microsoft, Che sono tutti marchi che se acquistano lo United non hanno bisogno di uno sponsor sulla maglietta, Perché se Apple acquista il 100% del Manchester United non ha bisogno di uno sponsor da inserire sulla maglietta, Perché molto probabilmente metterà il marchio Apple, Quindi quello che sta succedendo in casa Manchester è un casino, C'è veramente un casino, E quando scappano fuori ste notizie creano ovviamente tanta confusione, Perché in questo preciso istante, Io ve lo dico in maniera molto chiara, Lo United non ha la disponibilità economica e soprattutto la società in questo momento non ha neanche la volontà di potenziare la squadra perché non gliene frega più nulla, Già non gliene fregava prima, adesso proprio non gliene frega proprio più niente, Perché ovviamente hanno messo in vendita la proprietà, Quindi la situazione in questo momento è che lo United non si può permettere questi acquisti, Io al mercato invernale posso vedere un Gakpo, Ma non di più, Un giocatore da 60, 50, 40 milioni, Ma non uno da 100, Un altro da 70, Un altro da 80, Non è una cosa possibile in questo preciso istante, Poi se a gennaio esce fuori che lo United è stato venduto oppure hanno trovato dei finanziamenti, Allora la situazione li cambia, Ma al momento la vedo veramente troppo troppo difficile, Fatemi sapere ovviamente voi nei commenti cosa ne pensate, Io vi saluto, Vi ringrazio per la visione, Alla prossima!